Vincenzo Laganà ci parla di Ariete, colui che nasce sotto il segno dell'Ariete, caratteristiche, strutture mentali, fisiche, insomma, un leon testum, l'Ariete, conosciamolo meglio. Ecco, siamo ad aprile, l'anno astrologico è cominciato e siete proprio voi cari amici dell'Ariete, proprio voi che finalmente iniziate a vivere le cose belle. Giove dalla vostra parte e vi darà una mano a realizzare che cosa? I sogni.